il tuo libro è un libro dedicato a tua madre flavia che malata di alzheimer e la cosa che che ho notato è che siccome alzheimer significa perdere la memoria perdere la capacità di riconoscere eccetera tu hai voluto ricostruire diciamo la tua vita e quindi la vita con tua madre la tua famiglia eccetera quasi come forma di compensazione a lei gli è andata via la memoria io pesco nella mia memoria la metto in un libro è così stato questo il sì l'idea di in qualche modo di far rivivere a lei i ricordi che non può più ricordare la memoria che non ha più perché proprio questo aspetto diciamo così della perdita dei ricordi è la cosa che più mi dispiaceva la perdita della capacità di ricordare il passato di poter anche se vogliamo immaginare un futuro attraverso i ricordi per cui io ho tentato per me è stato abbastanza complicato non facilissimo non avevo non ero sicuro di riuscire a scriverlo il libro quindi a mondadori ho detto ci provo ma non ne sono sicuro perché comunque è un elemento è molto insomma devastante insomma perché è una malattia molto forte che proprio corrode il fisico quindi è una e soprattutto è una perdita di identità una perdita di proprio tu vuoi dire che praticamente mia mamma sta in un mondo che è presente passato futuro e tutto non si capisce no però questo ci sono dei passaggi nel libro che sono significativi tu dici che con una alzata di sopracciglio ti dà la sensazione che capisca delle cose ho imparato a non sentire più le parole ma a sentire emotivamente quello che lei prova quindi attraverso la sua espressività quello che lei mi comunica e in qualche modo è un altro modo di comunicare cioè non ho più la logica anche se io certe volte gli faccio dei racconti so benissimo che le parole non le comprende in senso tradizionale però io penso che il tono della voce e l'atteggiamento che ho verso di lei forse questo lo sente